Omar Ramos Finisce la partita, 3-1 il risultato finale Metz che finisce qui dunque con la chiave per farla lavorosa dell'autogol E questo episodio ha deciso la partita, non sono riusciti a rimediare e hanno avuto la peggio Un saluto a tutti gli appassionati del bel calcio, ci vediamo alla prossima occasione Grazie a tutti Grazie a tutti